Amici software libero open source benvenuti o bentornati in questa 188esima puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi come sempre le principali notizie dal mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa come potete vedere se mi seguite su youtube anche questa è una puntata video del podcast se ancora non l'avete fatto vi invito a iscrivervi numerosi al canale youtube di Marcosbox basta che cercate Marcosbox oppure quello del pacco su youtube e troverete il canale è una puntata molto ricca questa puntata estiva di questo caldo agosto perché è una puntata con tre notizie principali il rilascio della nuova versione di linux pint, il rilascio della prima versione alfa di cosmic su popless 24.04 e poi una notizia che riguarda il mondo dei browser internet che potrebbe costare caro a Firefox ma lo scopriremo nella puntata a che cosa mi riferisco iniziamo con la prima notizia la prima notizia è un articolo pubblicato da Luca che ci spiega come poter ovviare un problema dovuto al mancato aggiornamento di CentOS 7 CentOS 7 ci ha salutato come saprete se non abbiamo ancora fatto in tempo a gestire la migrazione a qualcosa di più recente potremmo incorrere in qualche problema con YUM ovviamente non è che vi serve aggiornare il sistema però nel caso abbiate bisogno di installare qualche pacchetto o qualche dipendenza YUM non funziona correttamente e qui c'è la soluzione postata da Luca nel suo articolo che vi spiega come sistemare il problema con una serie di comandi voi a che cosa siete migrati dopo la morte di CentOS? siete migrati ad Agma Linux? o qualche altra distribuzione? fatemelo sapere nei commenti sono curioso di vedere come vi siete comportati e passiamo alla prima notizia quella riguardante di cui vi parlavo prima quella riguardante il rilascio di Linux Mint 22 la nuova versione di Linux Mint la nuova major release di Linux Mint questa qui basata su Ubuntu 24.04 GTS nell'occasione del rilascio di Linux Mint 22 ho fatto anche una video recensione con alcune impressioni a caldo sulla distribuzione video recensione che potete trovare sul canale YouTube di Marcosbox e che vi invito a vedere quali sono le principali novità di Linux Mint 22 nome in codice WIGMA bene, come dicevo è essere basato su Ubuntu 24.04 GTS che significa che è supportata sino al 2029 con aggiornamenti software e quant'altro troviamo poi un miglior supporto linguistico i kernel Linux 6.8 il server audio predefinito che è passato a Pipewire le sorgenti software che hanno ricevuto il supporto per il nuovo formato Debian DEB 822 il fatto che i temi sono stati aggiornati per supportare il GTK 4 l'aggiunta del supporto GXL a PIX che è il visualizzatore di immagini di Cinnamon sarebbe l'XApp perché non è presente soltanto sull'edizione principale con Cinnamon ma la trovate anche sulle altre edizioni di Linux Mint è stata aggiunta l'applicazione una nuova XApp Gnome Organ Accounts GTK che serve per la gestione degli account online il nuovo client Matrix per IRC è stata poi fatta una cosa molto importante che è stata data maggior sicurezza agli utenti per quanto riguarda l'installazione di software FlatPack da FlatTab non verificato ci sono una serie di meccanismi che sono stati implementati all'interno del software center di cui vi parlo all'interno del video quindi andatevi a vedere il video così da capire quali sono le novità per me è una bella distribuzione mi è piaciuta mi è piaciuta d'altronde Linux Mint va a rimare tutte quelle cose che non piacciono agli utenti Ubuntu quelli un po' più vecchiotti che mirano ad avere una distro senza Snap e senza altre cose quindi Linux Mint è la soluzione perché è una derivata di Ubuntu offre tutti quanti i vantaggi di Ubuntu però è priva di Snap per natura offre una serie di applicazioni che sono coerenti con il sistema quindi ci sta, ci sta è la migliore anzi derivata di Ubuntu attualmente presente nel panorama delle distribuzioni Linux e passiamo adesso a parlare di una notizia riguardante Google Chrome in questi giorni se avete utilizzato l'ultima versione di Google Chrome vi sarete accorti che a partire dal rilascio di Chrome 127 andando nella pagina Chrome Extension vi comparirà un messaggio che vi avvisa che ci sono alcune estensioni che potrebbero non essere più supportate e fra queste estensioni che non saranno più supportate ci sono c'è Plasma Integration ma immagino che quella venga aggiornata a breve e Ublock Origini il problema perché Google Chrome vi pone questo messaggio di errore? perché vi fa questa segnalazione? perché sapete che a breve ci sarà la migrazione al Manifest V3 quindi un nuovo modo di gestire le estensioni con permessi e quant'altro all'interno del browser web di tutti i browser basati sul Chromium e questo sta causerà problemi di funzionamento a diverse estensioni alcune estensioni verranno aggiornate altre estensioni non verranno aggiornate come non verrà aggiornato purtroppo per noi Ublock Origini che non superterà più non superterà più le ultime versioni di Google Chrome anzi di Chromium perché poi è presente anche su altri browser anche se su altri browser il problema viene diciamo così eliminato perché altri browser hanno all'interno una funzionalità per il blocco delle pubblicità quindi il problema è principalmente per gli utenti che utilizzano Google Chrome e come vi dicevo a causa di questa modifica non avremo più Ublock Origini non avremo più Ublock Origini che conosciamo perché l'autore di questa estensione ha detto che anzi ha già pubblicato una versione tra virgolette light di Ublock Origini che però ha una efficienza minore rispetto Ublock Origini sulle pagine di Marcosbox comunque trovate maggiori dettagli di questa situazione e trovate anche all'articolo dell'autore dell'essenzione Ublock Origini che vi spiego un po' perché è successo tutto questo casino e quali sono le prospettive future per lo sviluppo di Ublock Origini sviluppo di Ublock Origini che continuerà per Firefox quindi se siete utenti Firefox non vi preoccupate sotto questo punto di vista siete sempre voi che siete affezionati al Chrome che avrete problemi è brutta cosa questa qui questa guerra che Google sta facendo ai adblocker vedremo come si evolverà però vi dicevo vi dicevo che comunque ci sono altri browser che se ne infischiano di queste cose e fra i due altri browser cioè Firefox che in questi giorni ha visto anche il rilascio della versione 129.0 questa nuova major release va a introdurre alcune funzionalità carine interessanti che vanno a migliorare a migliorare la modalità di lettura che adesso dispone di un menu testo e layout migliorato con nuove opzioni per la spazzatura dei caratteri la spazzatura delle parole e l'allineamento del testo qui potete vedere uno screenshot di queste nuove funzionalità che sono aggiunte sono state aggiunte alla modalità lettura troviamo poi una funzionalità che è di vero però io continuo a non vedere forse in roll out si è infatti in roll out questa qui è ancora in roll out o meglio è ancora in roll out nel mio caso che è una funzionalità che vi consente di avere l'anteprima delle schede in secondo piano quando ci passiamo sopra con il mouse è una funzionalità come dicevo che è in roll out che non mi ha raggiunto ancora su diverse installazioni di Firefox spero di poter vedere a breve fatemi sapere voi se questa funzionalità è stata implementata sulla vostra installazione di Firefox quelli fanno di roll out diciamo a cadenza di utenti ogni tot utente viene data questa funzionalità per testare perché è una funzionalità nuova molto probabilmente lo fanno anzi quasi sicuramente lo fanno perché sanno che questa funzionalità potrà avere qualche bug di troppo su alcune macchine quindi stanno testando su larga scala in questa modalità vabbè comunque speriamo che arrivi presto a me e fatemi sapere voi se è arrivata sulla vostra installazione di Firefox ci sono poi altre modifiche che potete leggere comunque sul changelog che ho postato sulle pagine del blog e vi parliamo all'inizio puntata di una notizia che potrebbe impattare in maniera molto negativa sul sul futuro di Firefox perché perché negli Stati Uniti c'è stata una sentenza storica Google è stato definito monopolista ha violato la legge antitrust statunitense mantenendo un monopole dei mercati della ricerca e della pubblicità e l'ha fatto spendendo miliardi di dollari per diventare il motore di ricerca predefinito sapete bene che Google caccia tanti schei per poter essere il motore di ricerca predefinito sia su su Firefox ma che soprattutto sui dispositivi Apple e questa sentenza che è stata fatta negli scorsi giorni che è stata appena pubblicata negli Stati Uniti fa emergere che appunto Google ha utilizzato delle pratiche commerciali scorrette e quindi si è comportato da monopolista e quindi per la legge sull'antitrust dovrà essere ridimensionata diciamo così oltre a questo ha fatto anche ha commesso anche violazione delle leggi sul monopolo sull'antitrust per quanto riguarda anche il settore della pubblicità testuale di ricerca con accordi esclusivi che gli hanno consentito di aumentare i prezzi senza alcuna significativa restrizione competitiva rendendo quasi impossibile per la concorrenza stipulare accordi esclusivi che cosa accadrà adesso con questa sendenza beh la sendenza non è entrata nel merito delle possibili soluzioni per scardinare questo monopolo di Google secondo però gli analisti si aprono due possibili scenari il primo scenario è quello che è molto un scenario molto ipotetico molto remoto perché non penso che si arriverà questo riguardo l'ascissione di alphabet in più società quindi separare la parte di ricerca dalle altre aziende del corosso di Google di Alphabet che racchiude tutti quanti tutti quanti i servizi di Google la seconda possibilità riguarda la possibilità di stipulare nuovi accordi di esclusività con aziende terze che o verrà verrà rimata o verrà messo uno stop oppure magari ci sarà un blocco per nuovi accordi in tutti questi scenari però se da un lato abbiamo Apple che può fare a meno dei soldi di Google anche se tasca tantissimi soldi per quanto riguarda questo accordo che prevede l'utilizzo di Google come motore di ricerca predefinito in Safari dall'altra parte c'è una società a noi molto cara Mozilla Foundation anzi una fondazione Mozilla Foundation che potrebbe avere un durissimo contraccorpo da questa decisione perché Mozilla praticamente l'81% secondo le stime recenti secondo gli ultimi accordi l'81% delle entrate di Mozilla deriva da questo accordo che ha Mozilla con Google per quanto riguarda per quanto riguarda il motore di ricerca predefinito quindi significa che su 593 milioni di ricavi generati secondo gli ultimi dati pubblicati 510 milioni di dollari derivano dall'accordo di Google immaginate che cosa significa per Mozilla perdere tutti questi soldi di botto o magari perderne la metà perde una percentuale o non poter rinnovare questo accordo in futuro quindi alla scadenza che ne so di fra due anni quando scadrà l'accordo ritrovarsi di bot senza tutti questi soldi cioè Firefox andrebbe a collasso perché non potrebbe sopportare una cosa del genere brutti scenari si prospettano all'orizzonte speriamo che non si arrivi a tanto perché diciamo da una cosa buona scordinare il monopolio di google potrebbe derivare una cosa bruttissima cioè la morte di Mozilla che già non se la passa bene per quanto riguarda marco share adozione e quant'altro con questa cosa avrebbe una mazzata tra capo e collo tremenda vabbè vedremo nei prossimi mesi che cosa accadrà incrociamo le dita e pensiamo all'ultima notizia di questa puntata riguardante del rilascio di Cosmic System76 ha annunciato il rilascio di Cosmic della prima versione alpha di Cosmic Cosmic Epoch 1 come è stata nominata e della distribuzione che state vedendo anche in questa puntata del podcast che sto utilizzando in questa puntata vi ho fatto una video anteprima di questa prima versione di Cosmic con le prime impressioni a caldo su questo nuovo desktop environment a me piace piace il concetto piace il lavoro che stanno compiendo i ragazzi di System76 si è sentito l'autombranza delle retrovie gli sto avvicinando l'ospedale quindi non fateci caso mi piace mi piace mi piace molto questa questa distribuzione mi piace molto questo desktop environment spero è passato l'autombranza spero che nei prossimi mesi verranno sistemati tutti i bug della prima ora è una versione alfa quindi se decidete di provare di provare Cosmic su su Propos 24.04 ma anche se decidete di qui possiamo vedere è possibile installarlo anche su su altri su altre distribuzioni lo vediamo sta ecco qua qui trovate l'istruzione per installare Cosmic su Fedora su NixOS su Arch Linux su OpenSUSE OpenSUSE arriverà breve su SerpentOS su Redox OS quindi avete tanti modi per provare Cosmic però come vi dice ripeto se se la provate se decidete di provarla non fatevi scoraggiare dei bug i bug ci sono ci sono diversi ma è normale è un prodotto alfa quindi la strada verso la stabilizzazione è ancora è ancora lunga però ripeto io ripongo tante tante tanta fiducia tante speranze in questo nuovo desktop environment fatemi sapere voi che cosa ne pensate se anche voi siete come me dei fanboy di Cosmic se non vi dovete avere la tagura di provarlo lasciate un commento o qui sotto a questa puntata del podcast o al video che ho pubblicato la video recensione che ho pubblicato sul canale YouTube prima di lasciarci con con questa puntata del podcast vi vi ricordo anche un'altra un'altra cosa un'altra chicca per voi utenti per voi utenti Linux ho pubblicato sulle pagine del blog una un link a uno uno store Max Ufficio si chiama che vende computer ricondizionati se volete acquistare un computer ricondizionato fare bene all'ambiente fare bene alle vostre tasche date un occhio allo store di Max Ufficio ci sono diverse soluzioni ricondizionate per quanto riguarda gli utenti di Marcos Box che non sono pratici nell'installazione di distribuzione Linux potete chiedere a Max Ufficio nel momento dell'acquisto di poter installare la vostra distribuzione Linux preferita su questi computer ricondizionati io non ci guadagno niente non è una sponsorizzazione non è una partnership è una una cosa che mi sento di fare nei confronti dei ragazzi anzi del titolare di Max Ufficio e vi ricordo anche che potete acquistare anche computer ricondizionati dai ragazzi di Revoir ve ne ho parlato diverso tempo fa purtroppo non c'è più lo sconto dedicato ai lettori di Marcos Box che avevate lo scorso mese nel corso nel mese di giugno però io il banner sul blog lo lascio lo stesso perché è un progetto interessante quando ci sono queste soluzioni di ricircolo riuso e quant'altro io sono sempre a favore e beh ecco questa ultima notizia si conclude qui questa puntata del podcast di Marcos Box io come sempre vi invito a seguirmi sui social mi trovate su Facebook mi trovate su X mi trovate su YouTube sulle principali piattaforme di podcasting mi trovate su LinkedIn con il mio profilo personale mi trovate su MasterDone1 e soprattutto mi trovate su Telegram dove trovate un canale dedicato alle notizie la community Telegram dove potete parlare non soltanto di Linux ma anche di tante altre cose che vi passo la paramento c'è il cazzeggio libro e trovate anche un canale dedicato alle offerte Amazon sapete bene come funziona io posto alcuni link referral di prodotti su Amazon voi acquistate per voi non cambia nulla perché il prodotto lo pagate sempre lo stesso però Amazon mi dà una piccola percentuale infine vi ricordo anche un'altra cosa che potete abbonarvi a NordVPN utilizzando il mio link referral che trovate sulle pagine di Marcosbox attualmente vediamo l'ultima offerta del momento l'ultima offerta vi dà fino al 73% di sconto sui piani di 2 anni più 3 mesi extra quindi se avete bisogno di una VPN per lavoro per svago per qualsiasi altro motivo fateci un pensierino attivate NordVPN con il mio link referral in modo da supportare il blog e da anche da risparmiare poi NordVPN non ha bisogno di presentazioni è il miglior servizio di VPN attualmente presente sul mercato quindi è una garanzia lunga vita e prosperità a tutti quanti passate un buon buon ferragosto passate delle buone vacanze rigeneratevi e state soprattutto restate sani come dice il mitico Marco Leggi ciao ciao a tutti quanti